Benvenuti in questo nuovo video. Oggi la TuttoTec vi fa vedere l'installazione del famoso prodotto che vi abbiamo fatto vedere nell'altro video, mettiamo qui la scheda, dove c'era l'unboxing e basta, ma questa volta andremo ad installare il sensivo. Vi faremo vedere passo passo come fare, cosa scaricare con l'applicazione e come configurare il vostro prodotto sensivo. Detto questo, cosa dobbiamo ricordare? Di iscriversi al canale, molto importante, attivare la campanellina per i prossimi video, verrete avvisati, e di lasciare un bel pollice in su, che tanto non costa nulla. Assolutamente. Ma bando alle scienze, partiamo subito con la nuova sigla! Diamo qualche caratteristica del prodottino che poi andremo ad installare. Vai, vai, sgancia fuori tutte le... Quello che ci siamo appuntati. Leggo, esatto. Ci siamo appuntati. Allora, ha un controllo remoto tramite un'app dedicata, che funziona da quanto si dice molto bene. Ha la geolocalizzazione, questo sicuramente permetterà appunto di prendere i dati atmosferici esterni e quindi regolare le temperature, immaginiamo. Una cronoprogrammazione settimanale, abbiamo già visto prima, ma poi la approfondiremo. Stiamo dicendo tutte cose da primo pilo, diciamo. Sì, sì, sì. Elenchiamo un po' di caratteristiche e poi entriremo comunque nello specifico come è nostra consuetudine e come ci piace a noi dilungarci. Esattamente. Ha la regolazione in base a temperatura e umidità, climate react mode. What's gaps? One's gaps. Ha i sensori integrati di temperatura e umidità, come vi aveva fatto vedere prima Miki. Si può condividere tra più utenti il controllo del climatizzatore tramite il Wi-Fi. Questa è un'ottima cosa. Esatto. Quindi presumiamo, scaricando la stessa app su altri dispositivi mobili. Sì, fai il login uguale a quello che hai fatto, sul quello principale. Naturalmente è compatibile sia con Alexa che con Google Home. Infatti faremo entrambi i video dopo. Esattamente. E ci sono disponibili delle api per la condivisione di applicazioni di terze parti. Per la realizzazione della condivisione di terze parti. È compatibile con moltissime marche. I marchi più famosi, ve ne leggo alcuni, i Fujitsu, i Sensei, Panasonic, Toshiba, Itachi, Mitsubishi, eccetera, eccetera. Ma comunque dal sito della Sensibo è possibile verificare la compatibilità anche se non è elencata tra questa ventina di marche che fanno vedere così in preview. Esatto, esattamente. Per poter scaricare l'applicazione direttamente dall'App Store per quanto riguarda l'Apple oppure Play Store per quanto riguarda i dispositivi Android. Allora, abbiamo provato a scansionare il QR Code ma non mi rilevava nulla. Quindi noi andiamo a fare una ricerca direttamente nell'App Store. Cerchiamo Sensibo. Eccolo qui. Con questo simbolino e la scritta Sensibo andiamo a scaricare l'app. Abbiamo scaricato l'applicazione. Siamo entrati dentro. La prima cosa ci dice di abilitare le notifiche. In questo caso noi consentiamo a farci inviare le notifiche. Facciamo l'iscrizione. In questo momento ci dice iniziamo. Quindi cosa bisogna fare? Se abbiamo già un account, quindi sul secondo cellulare eventualmente facciamo accesso. Ma siccome questa è l'unità principale che darà il comando, facciamo Iscriviti. Qui ci chiede tutta una serie di dati. Naturalmente l'indirizzo mail, nome, cognome, la password, verifica password. Poi faremo Iscriviti e ci rivediamo ad operazione effettuata. Ci è comparso il messaggio che chiedeva quando attivare la geolocalizzazione. Io ho impostato che deve farlo quando utilizzo l'applicazione. Perché sennò vi dà la possibilità di una sola volta oppure mai. Fatto questo ci chiede, almeno nel mio caso, se voglio salvare la password. Io per comodità la salvo. Qui ci chiede quale dispositivo avete acquistato. Ed è il primo, Sensibo Sky. Siamo arrivati al momento di dover collegare l'alimentazione al nostro dispositivo. Colleghiamo la micro USB nella sua sede. Dalla parte opposta l'USB direttamente all'interno. Adesso collegherò l'alimentazione. Sul manuale dice che dovrebbe lampeggiare qualcosa qui. Acceso e sta lampeggiando. Continuiamo con la configurazione. Abbiamo collegato il cavetto di alimentazione. Come vi abbiamo fatto vedere, il Sensibo ha iniziato a lampeggiare il LED blu. Adesso facciamo il prossimo. Qui ci fa fare la procedura che vi menzionavamo prima. Scannerizzare il QR code. Noi l'abbiamo già fatto. L'applicazione ci chiede di scansionare il QR code nella parte posteriore. Noi eseguiamo ciò che ci viene detto. Fatto. Il QR code non serviva, come dicevamo erroneamente all'inizio, per scaricare l'applicazione. Serve semplicemente per un riconoscimento del dispositivo. A questo punto inseriamo il nome della stanza e la chiamiamo sala. Clicchiamo su next. Siamo arrivati al momento peggiore di tutta la configurazione. Questo è il bello e il brutto dell'era moderna. Ci chiede di inserire la password del Wi-Fi. Facciamo anche questa e poi ci rivediamo. Ci dà tutte le reti disponibili Wi-Fi in zona. Selezionate la vostra. Adesso veramente dobbiamo inserire la password del Wi-Fi. Ci rivediamo dopo questa operazione. Seguiamo le indicazioni. Ho preso il telecomando del climatizzatore e clicchiamo su prossimo. Adesso ci dice di puntare il telecomando del climatizzatore verso il sensore sensibo e cliccare il tasto di accensione. Effettuiamo l'operazione. Il climatizzatore si è azionato. E ha riconosciuto il telecomando. Adesso proviamo a spegnerlo. Cliccando qui ha già funzionato. Ci è comparsa l'indicazione di rilevare la posizione del dispositivo. Ho fatto semplicemente clic su quel rettangolo che era comparso e mi ha fatto la geolocalizzazione. Clicchiamo su aggiornare. Mi dà una temperatura di 22,7 gradi con un tasso di umidità del 66%. Qui mi dà tutte le varie indicazioni. Cliccando sulla posizione sala mi apre il telecomando. Ho acceso il climatizzatore con il tasto in basso nella parte centrale. Adesso partiamo indicando il tasto rosso più che sta ad indicare l'aumento di temperatura. Dalla parte opposta il tasto meno. Quindi come potete vedere quando io digito prende il click e mi cambia la temperatura sulla parte centrale. Non appena fatta questa operazione il climatizzatore immediatamente mi dà il click di conferma. Poi proviamo da sinistra. Il tasto stoppad serve per poter muovere le alette fino ad arrivare a quella dell'oscillazione. Proseguiamo con il tasto sotto che è praticamente un timer. Quindi si può andare ad impostare ruotando in senso orario il timer di spegnimento. Quindi se per caso di notte lo volete accendere ma non volete rimanere tutta la notte col climatizzatore acceso vi andate a dire all'applicazione spegnilo dopo tot tempo. Torniamo indietro. Clicchiamo sul tastino con il simbolo della ventola. Qui vi dà tutta una serie di impostazioni per quanto riguarda la velocità della ventola interna. Dalla più potente a quella più silenziosa più lenta. E poi qui potete tranquillamente smanettare come più vi pare. Ultimo tasto che ci manca è il tasto freddo. Con questo tasto ci apre un ulteriore menu. In questo menu ci dice vuoi l'impostazione sul freddo, sul caldo, solo ventola, quindi a reazione basta, automatico oppure la funzione di umidificatore. Come potete vedere rispetto al Broadlink abbiamo veramente dei comandi veramente molto avanzati. Si può fare praticamente di tutto. Selezionate la funzione che più vi interessa. Il climatizzatore prende immediatamente il comando. E adesso passiamo sull'app Alexa per poter trasferire tutte le informazioni sul nostro dispositivo. Entriamo nell'app Alexa. Menu in alto a sinistra. Clicchiamo su Skill e giochi. Andiamo a ricercare Sensibo. Trovato. Cliccate sulla scritta Sensibo. Il primo che vi compare in alto. Ci clicchiamo sopra. Lo abilitiamo all'uso. Inserite le credenziali e fate il login. Ci è comparsa questa nuova indicazione, mai vista ogni volta che abbiamo fatto una configurazione con Alexa. Ci chiede l'autorizzazione per potersi connettere con Amazon Echo. Noi naturalmente diamo l'autorizzazione. Ok. Abbiamo configurato con successo la Skill Sensibo. Torniamo indietro. Facciamo fine. Adesso ci compare la scritta dove ci dice che dobbiamo andare a cercare il dispositivo. Facciamo Scopri dispositivi. Molto probabilmente, come tante altre volte, ci darà errore. Nel frattempo il dispositivo Alexa sta ruotando in senso orario con il cerchio blu. E questo indica che sta facendo la ricerca. Come detto prima, è venuta fuori l'indicazione che non è stato trovato nulla. Facciamo Chiudi. Andiamo nella Homepage. E invece in alto, come potete vedere, dice Ho trovato un termostato. Facciamo Visualizza. Eccolo qui. Il primo in alto è il nostro dispositivo. Ci clicchiamo sopra. Ci dà l'indicazione che il dispositivo Sala è spento. La temperatura attuale in Sala è di 22,5 gradi. Un consiglio. Se per caso avete chiamato il vostro dispositivo sensibio con lo stesso nome di un dispositivo che avevate precedentemente installato nell'app Alexa con lo stesso nome, vi consigliamo di rinominare uno dei due, in modo tale che non vadano in conflitto. Senza neanche farlo apposta e di sottofondo sentite le risate di perculazione di mio fratello, io ho creato un gruppo chiamato Sala. E naturalmente quando ho dato il comando ad Alexa, al dispositivo, mi ha acceso tutt'altro. Quindi vi facciamo vedere come risolvere il problema. Cliccate sul dispositivo, nel mio caso Sala, col simbolino del termostato. In alto, a destra, la rotella. Modifica nome. E lo chiamiamo climatizzatore. Ecco fatto. Facciamo fine. Torniamo indietro. E adesso facciamo la prova. Alexa, accendi il climatizzatore. Perfetto. Alexa, climatizzatore 23 gradi. Il condizionatore è in coltanto su 23. Alexa, spegni il climatizzatore. Come avete potuto vedere, la configurazione è stata relativamente semplice. Ma perché relativamente? Semplicemente perché bisognava impostare il modem a 2,4 GHz. Anche questo non è difficilissimo. Basterà seguire poche indicazioni che più avanti in un video comunque faremo. Ma sì, può essere sempre utile comunque. Sì, anche perché tutti i dispositivi che abbiamo configurato vogliono tutto il 2,4. Quindi... Però generalmente, appunto, come diceva Mickey, allontanandosi, lo prendevano in automatico, questo no. Per cui un video come poter switchare il 2,4 e il 5 può essere utile. Lo fate direttamente da computer, quindi nulla di trascendentale. È stato veramente semplice. Il telecomando è stato riconosciuto proprio nel momento in cui Marco ha schiacciato il tasto di accensione e spegnimento del telecomando verso il sensore sensibo. Ha preso già tutte le funzionalità. Sulla app sensibo potete fare di tutto e di più. Eccezionale. Veramente bello. Quando poi portate le funzionalità su Alexa, non potete ad esempio... Attivare la pompa di calore. Attivare la pompa di calore, la diumidificazione. Quando abbiamo provato a creare delle routine, ci ha dato la possibilità solamente di accensione e spegnimento. Esatto. E temperatura. Bravissimo. Per adesso è così. Studieremo sempre di più la app e tutte le varie impostazioni che si possono fare. E se abbiamo degli aggiornamenti ve lo faremo sapere. Sicuramente poi nel prossimo video che faremo dell'applicazione per farvi vedere nel dettaglio come funziona, perché abbiamo intenzione di fare un video inerente a quello, vi daremo maggiore ragguagli. Adesso dateci il tempo di studiare un pochettino il tutto e poi dopo vi daremo tutte le informazioni. Così almeno vi verrà dettagliato proprio voce per voce tutto ciò che questo dispositivo può fare. Però, prime impressioni, il dispositivo quando gli si dà il comando riceve e trasmette immediatamente il comando. Non ci sono dei lag, non ci sono problemi di nessun tipo. Col tempo capiremo se anche l'applicazione ha dei problemi. Però, per adesso, tutto ciò che gli abbiamo impostato, i comandi che gli abbiamo dato, non hanno mai avuto nessun tipo di problema. È la prima volta, dateci il tempo di testare. Ah, una reattività migliore del telecomando al momento. Sicuramente molto meglio del telecomando e se poi lo paragoniamo a quella che è la funzionalità del Broadlink... Vabbè, qui siamo 10 a 1, non ce n'è, non c'è storia. Vi ricordiamo che questo prodotto serve per comandare solo i climatizzatori. Per tutti gli utilizzatori di Google Home, Marco, che facciamo con loro? A brevissimo arriverà il video anche per voi. Anzi, se riusciamo, anche se sono le 9 e mezza di sera, riusciamo magari a fare anche quest'ultima cosa. Dovrebbe essere veloce anche lì. Niente, detto questo, vi ricordiamo di controllare il link qui sotto. Abbiamo messo anche il prodottino Sensibo che vi consigliamo assolutamente se avete il climatizzatore in casa. Che dire? Per questo video è tutto, ragazzi. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!